La mafia e lo Stato sono due poteri che insistono sullo stesso territorio, o si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Queste erano le parole del grande giudice Borsellino prima che venisse ammazzato e questa è ancora l'attualità dei giorni nostri. Io penso che in questo paese la gente sia stanca di vedere che si mettono d'accordo e questa occasione è l'occasione giusta per dire tutti quanti insieme che è il momento di fare la guerra, la guerra degli onesti contro coloro che ci hanno scippato il nostro futuro e ci hanno scippato la possibilità di dare la gestione della cosa comune a cittadini trasparenti, a cittadini che fanno l'interesse comune. Riprendiamoci l'Italia, riprendiamoci questo paese. Venite in piazza con noi.